In molti, soprattutto i frequentatori più assidui, l'avranno notato. La passeggiata dell'Isipo, nel suo tratto iniziale, subito dopo lo stabulario, nella zona di concessione di Marina Group, si presenta libero da strutture che vi erano state depositate e accantonate. Nel tempo, poi essendo questo un posto aperto, oltre alle attrezzature che Marina Group e l'associazione Vongolai, avendo la zona in concessione, teneva in deposito per la maleducazione e l'inciviltà di alcuni, era diventata una vera e propria discarica a cielo aperto. Cartacce, rifiuti di ogni genere, plastica, bottiglie, di tutto e di più, residui di cibo, sacchetti della spazzatura. Il fatto di essere uno spazio aperto incentivava questi soggetti, dallo scarso senso civico e del decoro, a buttarci di tutto al loro passaggio. E nonostante le pulizie periodiche che Marina Group effettuava, a poco queste valevano. Certo, le idrovole idrauliche arrugginite, le reti e le attrezzature lasciate lì non miglioravano l'aspetto globale del posto, ma quello era il suo uso. Ora tutto è stato rimosso, dato che presto partiranno i lavori per cui questo posto è stato lottizzato, ovvero come da concessione firmata con il Comune dopo il completamento delle opere pubbliche, strade, sottoservizi, illuminazione, l'abbellimento della passeggiata dell'Isipo con le cinque panchine, ora è giunto il momento di realizzare le edificazioni entro il 2020. Qui i primi di marzo prenderà il via un cantiere per creare un edificio in blocco unico dell'altezza di 8 metri che conterrà 4 opifici dove verranno ospitate strutture legate al mondo della pesca e della cantieristica, servizi a supporto e della lavorazione delle vongole. Inoltre verranno assemblate reti da pesca, oltre anche ad ospitare uffici ed altre attività sempre di supporto al mondo della pesca.